buonasera allora io come sempre faccio è mio dovere informarvi del come del perché succedono determinate cose anche quando le cose vanno non particolarmente bene sì mi rendo conto che quando arrivi in finale perdi c'è qualcuno che magari sarebbe forse più contento pure fa meno male pensare di essere eliminato alle qualificazioni ecco c'è a un certo punto quando si arriva quando si arriva in finale si spera sempre di vincere non abbiamo vinto vi spiego molto semplicemente cosa cosa per quanto possibile cosa è successo così poi vi fate una una migliore idea che va dal di là della legittima legittima rabbia che era mia perché potete immaginare quanto sono contento è giusto per capirsi è cioè almeno così non ci giriamo intorno mattarella è quella simpatica persona che ai tempi di della del governo dell'incarico del governo giallo verde quando rifiutò l'incarico di savona era quello che disse che la rifiutava perché non poteva tollerare l'idea che ci siano delle persone che dessero l'idea non che lo fossero ma che dessero l'idea di avere di criticare la moneta unica quindi una persona che dice che secondo lui io non ho diritti civili ecco perché con orgoglio rivendico che io critico la moneta unica l'ho criticata la criticherò ecco quindi immaginate voi cosa posso pensare io del dell'esimio della 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 meraviglioso del miglior presidente degli ultimi centosettantamila anni no sergio mattarella quindi così sgombro subito all'inizio il il punto di cosa di cosa di cosa penso io insomma di di sergio mattarella volendo posso aggiungerci c'è una persona che ha negato le le elezioni quando dovevano essere sacrosante quindi secondo me la persona che ha in un concetto di democrazia dir poco bizzarro mi verrebbe mi verrebbe da dire perché per due volte doveva andare in modo evidente alle elezioni quando è caduto governo gialloverde quando è caduto conte non l'ha voluto fare e invece il parlamento è arrivato a trionfalmente no alla conclusione che non si può fare a meno di mattarella cominciamo a spiegarvi come perché allora innanzitutto si arrivava con una possibilità si arrivava per la prima volta con il centrodestra che sulla carta aveva la maggioranza relativa dei grandi elettori mettendo assieme i voti di lega fratelli d'italia e forza italia più centristi diciamo qualcosa dei centristi c'era la maggioranza relativa e quindi c'erano delle sulla carta delle possibilità di arrivare a un risultato questo era il punto di partenza era la vittoria poi c'era la sconfitta immediata la sconfitta immediata lo sappiamo tutti quantomeno per chi la pensa so che ci sono altre visioni sia strategiche che personali anche all'interno del mio partito ma per chi mi ha seguito sa benissimo che la sconfitta da evitare era draghi al colinale questo adesso ce lo possiamo dire insomma l'abbiamo grosso modo accennato per per un certo tempo ma sette anni di di draghi era il punto di partenza dove probabilmente non era il caso non era il caso di andare come si aperta la come si aperto il questo questo interessante esperienza perché non l'avevo mai fatta non sapevo come funzionava e non sapevo le meccaniche che ci sono in in moto o che o che si fanno per riuscire a convincere mille la maggioranza relativa anzi la maggioranza assoluta diciamo così di millenove persone che la pensano tutti in una maniera diversa che hanno diverse ambizioni a scrivere tutti un nome che è un esercizio di democrazia oggettivamente importante per quanto mediata allora si è iniziati subito dal primo giorno se per caso vi ricordate con draghi che faceva campagna elettorale per se stesso non è che mi rivelo qualcosa di di segreto ma avete visto che subito il primo giorno ci sono stati degli incontri di draghi con i leader l'avete letto sui giornali quindi non vi sto rivelando niente di particolare che voleva essere eletto nonno a servizio delle istituzioni nonno che voleva andare a curinale e in maniera secondo me poi rituale mi verrebbe da dire aveva cominciato una sua diretta campagna elettorale potete immaginare come ero sereno perché vedendo l'inizio e sapendo oltretutto quali e quanti sono i poteri assommati in teoria a quella persona anche se forse magari un po l'abbiamo sopravvalutato mia mi veniva mi veniva da pensare che il rischio avrebbe potuto essere quello le forze in campo centrodestra sì sì siamo uniti siamo uniti centrosinistra non si capiva cioè pd 5 stelle non si capiva bene a che nome puntassero anche se circolavano continuamente i soliti nomi casini no è così questo tipo e poi un gruppo di molto bravi secondo me per come l'hanno gestita anche se purtroppo poi alla fine non è risultato utile fuoriusciti del movimento 5 stelle che avevano un'idea io quando ci sono delle persone che che hanno un'idea grande stima avevano un'idea se avranno voglia di rivelarvelo loro ve lo faranno non spetta non spetta a me farlo ma avevano una buona idea secondo me aveva una buona idea e per far vedere che in ogni caso per quell'idea c'erano avevano trovato una maniera direi molto efficace di far vedere che loro i voti li controllavano come come lo facevano l'hanno fatto votando maddalena le prime le prime votazioni e poi dopo passando su di matteo così facendo hanno fatto capire che loro avevano il controllo di quei voti e che volendo sarebbero stati utili per una certa idea questo era grosso modo il le forze in campo diciamo così sentindo in giro tutti i vari deputati subito si capivano però che c'erano due 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 intendimenti ecco diciamo così primo draghi no e questo se devo essere sincero mi incoraggiava anche se si sa perfettamente che si è capaci di durare poco nelle proprie convinzioni però draghi no si sentiva più o meno da tutte le parti dall'altra parte invece si diceva mattarella bis questo lo dicevano in molti specialmente quelli del movimento 5 stelle e se uno ci pensa dopo può capire abbastanza bene da che parte vengono certe 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 idee perché c'era il flusso di corrente che portava in quella direzione beh molto semplicemente noi abbiamo un parlamento con millenove deputati millenove rappresentanti lasciamo perdere i delegati regionali comunque diciamo mille mille parlamentari che si sono autotagliati peraltro quindi grazie anche all'autotaglio la stragrande maggioranza di costoro pensano che che ogni giorno in più a palazzo un giorno guadagnato e quindi cos'era la soluzione che garantiva in modo certo assoluto e molto più concreto rispetto a promesse ve lo assicuro non cambia niente il governo va avanti non temete no e così questo tipo ma che garantiva di arrivare a fine legislatura mattarella bis una volta capito che l'andazzo era più o meno quello in teoria si poteva forse anche chiuderla lì però ci sono stati due tentativi di mezzo e che secondo me andavano fatti il primo tentativo che andava fatto era con il candidato di centrodestra che aveva più possibilità ed era elisabetta alberti casellati vi posso assicurare che ne sono stati considerati molti molti altri in qualche caso dando l'impressione d'inconcludenza perché sui giornali arrivavano tot nomi no e così questo tipo qualcuno non è arrivato sui giornali ma il conto che è stato fatto è che in una maniera o nell'altra questo era il nome che all'interno del perimetro del centrodestra avrebbe potuto raccogliere più nomi che sarebbe stato il punto di partenza altri nomi avrebbero potuto raccogliere qualcosa anche fuori dal perimetro di centrodestra senza dubbio ma probabilmente anzi quasi sicuramente partendo con meno numeri all'interno del centrodestra medesimo giusto sbagliato che sia stata la scelta non lo so però se uno volesse limitarsi all'interno ufficiale del centrodestra un candidato quindi accettato da tutti i partiti del centrodestra senza forzature senza niente era maria elisabetta alberti casellati che sarebbe stata secondo me un eccellente presidente un presidente donna una persona con una grande esperienza grande esperienza nelle istituzioni sei legislatura senato membro del ex membro del csm laureata in diritto canonico ex presidente di commissione come lo sono stato io quindi una prima donna presidente del senato non dimentichiamo seconda carica dello stato oggettivamente non potevamo secondo me dal punto di vista delle istituzioni di qualcosa che avrebbe mantenuto anche una linearità per non spaventare i per non spaventare i deputati perché altrimenti altri nomi divisivi no e così questo tipo sarebbe stato probabilmente l'opzione migliore il risultato l'avete visto avevamo deciso è una cosa che a me non piace sinceramente segnare i voti secondo me è una porcheria ma si era deciso di segnare i voti vale a dire ogni gruppo avrebbe scritto il nome in modo diverso oltretutto maria elisabetta alberti casellati si si prestava chi scriveva solo casellati chi alberti casellati chi senatrice casellati così via vengono letti il cognome viene letto solo il cognome ma i segretari d'aula riescono a vedere chi aveva scritto che cosa anche qui non sto rivelando niente l'han detto tutti lo si sa il risultato cos'è stato che abbiamo saputo ovviamente grazie a questo sistema e magari sarebbe stato andato pure peggio se non si fossero sognati i voti dove sono stati dove sono stati i cosiddetti franchi tiratori la lega aveva 208 voti e li ha messi tutti fratelli d'italia li ha messi tutti uno sull'altro 50 voti mancanti da forza italia e 20 mancati dai centristi 20 su 30 capite bene vabbè non 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 fatemi parlare cioè mi immagino potete immaginare che cosa posso aver pensato ora io dico ma queste persone così piccole da non capire che avevi un'opportunità che non era mai mai successa di poter portare una un candidato presidente della repubblica di centrodestra dopo un'infinita teoria che tuttora proseguirà di presidenti di sinistra avendo questa opportunità tu stai a pensare alla ripicchina personale al conto che non so che cavolo di conto abbiano fatto e prendi in pallini il candidato del tuo stesso partito no perché sai avessimo presentato un nome della lega avremmo presentato borghi bagnai no così questo tipo uno diciamo no guarda io quegli stronzi della lega non li voto no si presenta un candidato di forza italia perché l'elisabetta casellati è di forza italia e pensano bene di impallinarselo ora se metti che 20 fosse stato ineliminabile 25 così questo tipo ma con 430 voti caspita 430 voti era la base di forza da cui iniziare poi a chiedere i voti agli altri gruppi e saremmo riusciti a trovarli abbiamo passato tutti i primi due giorni in trattative per vedere se e che cosa ci sarebbe potuto essere consenso a seguire su quel nome lì e c'era potenzialmente ma bisognava partire da una base vicina invece questi simpatici 70 ominicchi ominicchi qualcuno di sicuro mi sta guardando sei stato un ominicchio questi ominicchi hanno ben pensato di buttare all'aria una cosa costruita in sette anni perché è sette anni io ho iniziato a lavorare nel 2000 a far politica direttamente con le elezioni nel 2015 nel 2015 quando erano il periodo delle elezioni toscana io ero per andare da solo sempre infatti in toscana avevamo fatto così dall'altra parte matteo salvini invece ha detto no bisogna assolutamente preservare la l'unità del centrodestra perché divisi vincono gli altri mentre invece uniti abbiamo almeno una possibilità ha ingoiato tutto ha concesso tutto ha concesso collegia concesso presidenze di regione tutto pur di mantenere l'unità del centrodestra matteo salvini è contro contro quello che io ovviamente avevo sempre suggerito tant'è vero che se ben vi ricordate in toscana che avevo la possibilità di fare da solo era andato da solo io e fratelli italia e qualcosa era servito poi forse tale è arrivata dopo ma intanto le elezioni ci eravamo presentati così e aveva voi avevate apprezzato ecco questo questo sistema però la decisione di salvini è stata quella di mantenere con tutte le sue forze centrodestra in modo di poter arrivare a giocarsi ecco il risultato è che tu arrivi al punto dove avresti potuto giocarla e ti prendi 70 ominicchi che non votano il candidato del tuo partito in una situazione di questo tipo e a quel punto purtroppo mi spiace per la senatrice casellati ma era finita non si poteva pensare di recuperare partendo da 380 non si poteva pensare di recuperare 170 voti no andando a chiedergli non si sa chi e quindi lì era era finita intanto vedevi che quando votava solo centrosinistra spontaneamente contro le indicazioni dei loro leader che tutti dicevano di votare scheda bianca votavano mattarella gli elettori di centrosinistra soprattutto quello del movimento 5 stelle gli si veniva detto di votare scheda bianca non ascoltavano quello che gli diceva di fare quello che gli diceva di fare i loro leader e votavano mattarella per le motivazioni che avevo detto avevo detto prima da lì si capiva ancora meglio come si andava come si andava a parare a un certo punto succede una cosa secondo me molto interessante molto interessante dal mio punto di vista e anche come potenziale prospettiva politica salvini una volta preso atto che con una candidatura di centrodestra non si andava purtroppo non si andava da nessuna parte è andato a sentire che cosa proponevano quelli di sinistra e allora è andato in riunione con i vari i vari leader del centrosinistra del movimento 5 stelle che gli hanno presentato una serie di nomi su cui era possibile trovare un'intesa a quel punto è nato un'idea vale a dire un nome che avrebbe potuto diciamo così trovare d'accordo sia il movimento 5 stelle che fratelli d'italia ma movimento 5 stelle rappresentato da chi in quel momento millantava di rappresentarlo cioè vale a dire conte e lì forse bisognava capire conte che è un simpatico millantatore un simpatico cioè l'abbiamo imparato no che che cos'era che cos'era quando era presidente del consiglio era un allegro pallista ciao ciao marco guarda vorrei quasi farti partecipare a marco zanni ma insomma conte l'abbiamo appunto conosciuto e quindi millantava no in questo momento di essere il leader del movimento 5 stelle questo nome andava bene a fratelli d'italia andava bene a quello che pareva essere il movimento 5 stelle se fosse andato bene a noi beh a quel punto ci sarebbe stato una interessante secondo me politica scomposizione delle maggioranze che portava a una chiamiamola così destra populista anche se non vuol dire niente comunque a 5 stelle lega fratelli d'italia da una parte e a questo punto dato che non andava bene a renzi non andava bene a forza italia e così via dall'altra parte ci sarebbe stato forza italia partito democratico e renzi no molto più ordinato secondo me come 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 modo come modo di vedere le cose quindi era una possibilità interessante quella di quella di ieri sera su su questo nome che che sarebbe stato opportuno diciamo trattare con cautela perché stiamo parlando ovviamente di una carica istituzionale importante invece così non è stato sono arrivati gli sms di grillo insomma così questo tipo e vabbè la gente non si tiene comunque fatto stacchi in ogni caso avrebbe potuto essere un progetto interessante un progetto importante finito malissimo perché a quel punto è partito ovviamente l'impallinamento interno subito a partire del partito democratico e del movimento 5 stelle che avendo in maggioranza persone che vogliono votare mattarella perché tutto il resto dava garanzia di o quantomeno rischio di di esplosione di del governo di tutto hanno hanno simpaticamente detto ai loro pseudo leader cioè vale a dire a letta e a conte che non ci si pensava nemmeno e quindi nella notte questo possibile progetto del presidente donna e che avrebbe potuto insomma tutto sommato fare questa interessante scomposizione esploso quel punto di carte non ce n'erano più quel punto di carte non ce n'erano più e la decisione discutibile fino all'infinito di di Matteo Salvini è stata prendiamo atto del della della sconfitta non andiamo su quello che sarebbe stato l'ultimo tentativo che era casini anche qui non vi sto dicendo nessun segreto è l'ultimo grande ideone no ormai del tentativo parlamentare per cercare di mettere assieme tutte le forze parlamentari e trovare un un presidente condiviso sarebbe stato pierferdinando casini come oggi mi ha detto salvini mi ha detto guarda tu probabilmente mi vorrei mandare a quel paese già per l'idea di mattarella però probabilmente mi avresti mandato a quel paese anche con casini io gli ho detto sì probabilmente avrei mandato a quel paese con casini arrivare a tutta questa roba e finire con casini non credo che sarebbe stato oggettivamente tanto meglio rispetto a rispetto a mattarella boh non lo so diciamo che in generale per me sarebbe stato lutto in ogni caso comunque per evitare che le cose si incartassero e si andasse a finire su un derby mattarella casini allora matteo ha scelto di dire va bene finiamola qua prendiamo atto del prendiamo atto della degli orientamenti che ci sono e andiamo a chiedere a mattarella se gli va di fare il biso ci ha pensato su a lungo è mattarella detto aspetta un po' aspetta un po' che ci penso perché sai ho detto più e più volte che non avevo nessuna intenzione e qui bisogna imparare come si fa mai sempre dire il contrario di quello che si pensa sempre dire il contrario quello che si pensa tutta la corte dietro zampetti e compagnie bella si sentiva lo sfregare delle mani fin qui e bravi loro bravi bravissimi cioè partono con ovviamente dei mezzi migliori dei nostri e la pochezza delle truppe con cui si poteva andare alla battaglia ha fatto il resto ma il risultato è che hanno vinto loro questo punto alta cosa si poteva fare certo dal mio punto di vista una delle opzioni poteva tranquillamente dire essere ma sentite sapete cosa c'è di nuovo volete mattarella e cose di questo tipo ottimo infilatevelo nel naso e noi ce ne andiamo non entriamo in aula cose di questo tipo tutto quello che si vuole probabilmente sarebbe stato sarebbe stato meglio per qualcuno sicuramente e così via ma non avrebbe cambiato non avrebbe cambiato l'esito non avrebbe cambiato l'esito l'esito purtroppo era che e per come si mettevano le cose l'unico punto di arrivo sarebbe stato questo qui o mattarella o forse il tentativo di casini nel momento stesso in cui noi avessimo dovuto prendere combattere fino all'ultimo voto no per cercare di strappare la presidenza per pier ferdinando casini che poi non lo conosco e magari è persona gentile ma vabbè e questo questo è quanto è avvenuto potete immaginare cosa potrebbe essere la mia proprio giusto da un punto di vista di forma cioè cosa avrebbe potuto essere la mia preferenza sono stato più che sincero e più che chiaro con voi all'inizio su cosa ne penso di mattarella per cui è ovvio che io avrei fatto altro però cos'è stato il mio lavoro in questa mia prima mia prima elezione del presidente della repubblica beh tu arrivi in questa in questa situazione con un leader che è incaricato di fare tutte le trattative e i giochi io ho passato tutti questi giorni a mandare o a mettere in mano a Matteo Salvini nomi voti voti con conseguenza voti con condizione se mettiamo questo allora questo altro voto ci sarà se facciamo così allora potrebbe esserci questo persone del tipo potremmo provare questo nome invece di quest'altro sappi che è disponibile o similari alcune persone incredibili cosa che se devo dire la parte più più bella di questa pessima esperienza è stata riuscire a parlare assieme o conoscere persone che io boh per pudore per stante la loro grandezza non mi viene non mi veniva normalmente insomma di interpellare o di parlarci assieme invece ho trovato persone che è stato veramente un onore conoscere e raccogliere la loro disponibilità e io le ho tutte passate ho fatto i cross continuavo a fare i cross e a passarli a Matteo alla fine quello che è successo e quello che è stato risultato è questo qua il giudizio il giudizio ovviamente non spetta a me a me spetta solo una cronaca asciutta dei fatti io sono assolutamente convinto che nessuno nessuno di voi è partito con l'idea che un vostro rappresentante debba chiudere questa questa avventura con votando Mattarella io adesso poi farò un piccolo dialogo con la mia mano perché è possibile insomma io ovviamente con tutta la volontà che posso avere per votare Mattarella può essere che la mia mano non lo so ogni tanto è animata da volontà sua e io la posso costringere ma vediamo insomma comunque di sicuro io so che nessuno di voi vorrebbe che il proprio rappresentante arrivato alla fine di questa procedura prende voti Mattarella quindi lo so questo è il risultato e il punto d'arrivo di queste giornate ho imparato tantissimo ho capito tante cose l'andazzo che non si può andare contro a meno di non avere un accordo ferreo su tutti ma contro una grande maggioranza che avevano già in testa di votare quel nome lì con dei motivi secondo me assai poco onorevoli perché ve li ho spiegati quali sono rimanere lì fino all'ultimo giorno di legislatura e io ci ho provato in tutte le maniere ci ho provato in tutte le maniere vi posso assicurare che in questi sei giorni ho dormito zero vabbè però quella è un'abitudine ho mangiato pochissimo non ho lasciato indietro niente cioè non è che posso cioè io proprio mi dicevo Claudio guarda questo è uno di quei momenti importanti non puoi dire non ho fatto questa telefonata non ho chiamato questa persona non ho detto quello che pensavo a Salvini in un certo momento ho detto in ogni minuto a Salvini che cosa pensavo ho chiamato tutte le persone che avrei dovuto chiamare ho parlato con tutte le persone con cui avrei potuto parlare quindi dal mio punto di vista credo di aver fatto il possibile credo però alla fine sono i risultati che contano certo ci sarà qualcuno che potrà vendere dicendo ah che figata cioè si partiva con Draghi che voleva fare Presidente della Repubblica in tutte le maniere eppure lui oggi non è contentissimo deve fare buon viso a cattivo gioco altri che dicono ah certo si partiva con Renzi si partiva con Forza Italia che volevano casini a tutti i costi come Presidente della Repubblica adesso devono fare buon viso a cattivo gioco noi seminari però ragazzi non è che perché Draghi non è andato a Palazzo Chigi questa è una vittoria direi che possiamo tranquillamente dircelo valutate voi quanto e cosa sia stato e cosa si poteva fare di diverso e cosa avrebbe avrebbe voluto essere io dal mio punto di vista farò anch'io le mie riflessioni come ovvio che sia a mente fredda parlerò con tutti e così via e poi vediamo un po' come e che cosa proseguire perché la cosa importante per me ovviamente da qui a domani cioè da qui a domani nel teso al futuro è dove vogliamo andare perché sembra evidente che se per caso dovessi scoprire che alla fine la nostra grande idea allinearci al Partito Democratico non è esattamente il mio futuro il mio futuro ideale ecco mettiamola così mi rifiuto di pensarlo e in ogni caso ripeto farò tutte le mie riflessioni del caso al momento quello che vi dovevo è un resoconto di queste giornate molto molto difficili ringrazio tutti i miei colleghi ringrazio in particolar modo Riccardo Molinari il capogruppo che ha avuto grande pazienza e ha dovuto dal suo punto di vista mettiamo così subire certe decisioni in modo forse quasi un po' più crudo rispetto a quello che possa essere capitato a me che io ero dietro nelle retrovie ecco comunque c'è tutta una squadra che ha lavorato i voti della Lega ci sono sempre stati tutti i deputati nessuno escluso erano in campo per facendo il loro dovere alcuni sono arrivati ammalati e così via il povero De Martini non è potuto arrivare dalla Sardegna ma vedi che forse alla fin fine forse si è arrabbiato di meno e purtroppo questo è adesso da qui in avanti bisogna capire dove vogliamo andare perché è il motto della mia famiglia il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare io voglio sapere dove vogliamo andare e suppongo che interesse anche a voi grazie a tutti